Eugenio Spadano, Presidente del Consiglio Comunale. Allora Presidente, 7 giugno, campionato italiano, 10 km di Master, qua a San Savo Marina. Un'occasione veramente importante per il nostro territorio. Certo, noi siamo intanto onorati di poter ospitare un'iniziativa così importante. Siamo altrettanto contenti perché questa iniziativa ci permetterà di mostrare a chi verrà e saranno in tanti a venire. Sicuramente il Presidente Colamarino calcolava in un migliaio, forse anche di più, di persone che saranno presenti quel giorno, il 6 giugno a San Salvo. E queste persone che a vario titolo rappresenteranno le loro zone di origine, avranno la possibilità di vedere San Salvo, di vedere quindi il nostro territorio con il mare, con le caratteristiche e anche le peculiarità turistiche, ma non solo turistiche che possiede questo territorio e la nostra città e avranno la possibilità poi a loro volta di ritrasmettere questi messaggi nei luoghi di appartenenza. E questo per noi è motivo di grandissima soddisfazione, per cui oltre all'evento che di per sé ha una portata importantissima a livello del contesto nazionale di questa manifestazione. Noi cogliamo anche l'opportunità di mostrare le nostre risorse e di poter contare poi in un ritorno successivo dopo questa iniziativa di giugno. Ed è per questo che noi ringraziamo ancora una volta la podistica San Salvo, il suo Presidente Colamarino e il contesto che ha dato la possibilità a San Salvo di essere in vetrina in quei giorni, perché appunto per noi come amministrazione comunale questa è un'occasione per mostrare appunto un altro volto, oltre che quello sportivo anche quello appunto di dimensione territoriale della nostra città. Grazie Presidente, da un Presidente passiamo ad un altro Presidente, più importante o meno importante, non lo sappiamo. Forse per il 7 giugno è più importante, perché avrà l'onore, ma soprattutto l'onere dell'organizzazione. Insomma questa organizzazione, Presidente, come sta andando? Ma sta andando alla grande, io non me l'aspettavo, già abbiamo le prime prenotazioni. Lo scoop di ieri, abbiamo una società di Bari che già hanno prenotato in 50, quindi diciamo tre mesi prima, avere una prenotazione di una società pugliese con 50 atleti a me già mi riempie di gioia. Quindi ci sono tutti i presupposti affinché questa manifestazione vada alla grande. Invece per quanto riguarda il premio Duilio Fornalora? Il premio Duilio Fornalora per me è stata la ciliegina sulla torta di questa manifestazione. Quando me l'hai prospettato, perché è stata una tua idea, io subito ho accettato perché Duilio era un nostro grandissimo amico. Duilio è stato a San Salvo presente in tutte le edizioni del Memorial Potalivo. Una persona squisita, simpaticissima, mi dava tantissimi consigli, sempre con il sorriso in bocca. Quel giorno che purtroppo ci ha lasciato, c'ero anch'io a Pescara, abbiamo corso insieme qualche chilometro scambiandoci delle battute, ma purtroppo ci ha lasciato, ci ha lasciato nella maniera che lui credo che fosse più preventiva, che più ci teneva. Sono onorato di dare questo premio Duilio Fornalora al primo abruzzese e alla prima abruzzese che taglieranno il traguardo al campionato. Quindi significa che tra gli abruzzesi c'è anche un'ambizione in più a venire a San Salvo? Certo, certo, certo. Ci sarà sicuramente un'ambizione in più, dando questo premio e io credo che in tanti correranno in onore di Duilio.